scuola per cominciare io vi ringrazio tutti per l'accoglienza affettuosa per me è come tornare indietro di vent'anni come cominciare da capo proprio ieri che era il mio secondo giorno di scuola i ragazzi mi hanno fatto capire una cosa importantissima che se io volevo insistere coi cosiddetti programmi ministeriali io e la scuola per loro saremo sempre qualcosa di alieno una specie di cosa extra